fredda e grigia spaventosamente fredda e grigia si pronunciava la giornata in cui l'uomo abbandonò la pista principale dello yukon per arrampicarsi sull'alto argine di terra dove una pista appena assegnata e poco battuta portava verso est attraverso la folta boscaglia di abeti era un argine ripido e arrivato in cima egli si fermò a riprendere fiato con la scusa di fronte a se stesso di guardare l'ora erano le nove non c'era sole né promessa di sole sebbene non ci fosse neppure una nuvola in cielo era una giornata limpida eppure sembrava che un impalpabile sudario gravasse sulla faccia delle cose una sottile tristezza che rendeva cupo il cielo e ciò era dovuto all'assenza di sole ma questo non preoccupò l'uomo era abituato alla mancanza di sole da giorni e giorni ormai non lo vedeva più e sapeva che ancora altri ne dovevano passare prima che l'astro ridente facesse capolino a sud al di sopra dell'orizzonte per scomparire poi immediatamente alla vista l'uomo lanciò un'occhiata indietro alla via che aveva percorso lo yukong largo circa un chilometro e mezzo in quel punto era sepolto sotto un metro di ghiaccio il quale era a sua volta ricoperto da altrettanta neve era tutto bianco candido levemente ondulato nei punti in cui si erano formate le placche ghiacciate a nord e a sud fin dove l'occhio poteva giungere si estendeva un bagliore immacolato interrotto soltanto da una sottile linea scura che verso sud serpeggiava intorno a un'isola di abeti e verso nord scompariva dietro un'alta betaia questa linea scura era la pista la pista principale che portava dopo 750 chilometri giù a sud al passo circut e all'acqua salata e a nord dopo 90 chilometri ad ozon e continuando per altri 1500 annulato per finire a san michel sul mare di bering dopo altri 800 ma tutto ciò la misteriosa sfuggente sagoma della pista il cielo senza sole il freddo terribile la stranezza quasi soprannaturale dell'atmosfera non facevano nessuna impressione all'uomo e non perché egli vi fosse ormai abituato era un nuovo arrivato un cecacuo e questo era il suo primo inverno il fatto è che era privo di immaginazione era sveglio e pronto per le cose della vita ma soltanto nelle cose non ne percepiva i profondi significati 45 sotto zero sono 45 al di sotto del punto di congelamento e ciò lo colpiva perché gli faceva sentire freddo e gli dava un senso di malessere punto e basta non lo portava a meditare sulla sua fragilità di creatura legata alle condizioni termiche e sulla fragilità dell'uomo in generale capace di vivere soltanto entro limiti angusti di caldo e di freddo e successivamente a congetturare sull'immortalità e il posto dell'uomo nell'universo 45 sotto zero significavano una morsa di freddo che faceva male e da cui bisognava proteggersi usando guantoni da neve copreorecchie bocassini caldi e calze pesanti che potessero significare anche qualcos'altro era un pensiero che non lo sfiorava neppure nel voltarsi per proseguire sputò con aria pensosa ci fu un secco crepitio quasi esplosivo che lo sorprese sputò di nuovo e di nuovo a mezz'aria prima di cadere sulla neve lo sputo crepitò sapeva che a 45 sotto zero gli sputi si congelavano al contatto della neve ma questa volta il fatto era successo in aria senz'altro erano più di 45 sotto zero quanto più non sapeva ma poco gli importava del gelo era diretto a una vecchia miniera sul brazzo sinistro del henderson creek dove già si trovavano i suoi compagni essi erano arrivati attraversando la regione dell'indian creek mentre lui aveva fatto un'ampia deviazione per vedere se in primavera sarebbe stato possibile ricavare legname dalle isole dello yukon contava di arrivare al campo per le sei un po di buio è vero ma i ragazzi erano già lì ci sarebbe stato il fuoco acceso e una minestra calda pronta per quanto riguardava il pranzo tastò con la mano un rigonfio della giacca lo teneva sotto la camicia avvolto in un fazzoletto contro la nuda pelle era l'unico modo di impedire che le gallette si congelassero sorrise compiaciuto pensando alle gallette tagliate nel mezzo inzuppate nel grasso dell'ardo e imbottite con una generosa porzione di pancetta si immerse tra gli abeti maestosi la pista era quasi invisibile una trentina di centimetri di neve erano caduti da quando vi era passata l'ultima slitta ed egli si rallegrò di essere a piedi e senza bagagli in effetti non aveva con sé nient'altro che la colazione avvolta nel fazzoletto tuttavia era stupito del freddo faceva davvero freddo decise strofinandosi il naso gli zigomi addormentati con la mano guantata le folte basette e tutti i peli del volto non bastavano a proteggere gli sporgenti zigomi e l'avido naso che si protendeva aggressivo nell'aria di accia alle calcagne dell'uomo trotterellava un cane un grosso eschimese indigeno dal manto grigio il vero cane lupo che non mostrava nessuna differenza né nell'aspetto né nel temperamento da suo fratello il lupo selvaggio l'animale era prostrato dal freddo terribile sapeva che non era tempo di viaggiare il suo istinto gliela diceva più lunga che non all'uomo il suo razziocinio in realtà non era soltanto più freddo di 45 sotto zero era più freddo di 50 e 55 sotto zero erano 60 sotto zero il cane non sapeva nulla dei termometri con ogni probabilità non c'era nel suo cervello una chiara consapevolezza di una condizione di estremo freddo come sarà invece nella mente dell'uomo ma la bestia aveva l'istinto provava una sensazione vaga ma sinistra che la rendeva mogia la faceva trotterellare furtiva alle calcagna del padrone e seguire avidamente ogni suo minimo gesto fuori dell'ordinario come se si aspettasse che egli si rifugiasse in un accampamento o cercasse qualche riparo e si facesse un fuoco il cane aveva conosciuto il fuoco e lo desiderava oppure avrebbe voluto scavarsi un buco nella neve in cui raggomitolarsi per non disperdere il calore del proprio corpo la congelata umidità del respiro gli si era depositata sul pelo sotto forma di impalpabile pulviscolo di gelo e particolarmente le macelle il muso e le ciglia erano imbiancati dal suo respiro cristallino anche la barba e i baffi rossi dell'uomo erano gelati ma formavano una vera e propria massa di ghiaccio che aumentava ad ogni respiro caldo umido che egli esalava inoltre l'uomo masticava a tabacco e la museruola di ghiaccio gli serrava le labbra in tal modo che egli non riusciva a pulirsi il mento quando doveva sputare col risultato che una barba cristallina del colore della consistenza dell'ambra gli prolungava il mento se fosse caduto si sarebbe spezzata come vetro in minuscoli frammenti ma egli non si curava dell'escrescenza era il pegno che tutti i masticatori di tabacco pagavano in quel paese e già si era trovato altre volte in circostanze analoghe il freddo non era così intenso come stavolta lo sapeva bene ma dal termometro d'alcol al 60 mile sapeva che in quelle occasioni si era trovato a 45 o a 50 sotto zero continuò a marciare attraverso le piatte distese di boschi per parecchi chilometri attraversò un'ampia pianura poi scese lungo un margine sul letto gelato di un fiumiciatolo era questo lo Henderson Creek che come sapeva distava 15 chilometri dalla biforcazione guardò l'ora erano le 10 faceva 5 chilometri all'ora e calcolò che sarebbe arrivato al bivio alle 12 e mezzo decise di celebrare l'avvenimento pranzando lì il cane cominciò a trottere largli alle calcagna la coda pendola per lo sconforto quando l'uomo riprese il cammino lungo il letto del torrente il solco della vecchia pista da slitta era chiaramente visibile ma quasi due spanne di neve ricoprivano le tracce degli ultimi viaggiatori da un mese nessuno aveva percorso quel silente ruscello l'uomo proseguì la marcia regolare pensare non era al suo forte in quel particolare momento non aveva nulla a cui pensare tranne che avrebbe fatto colazione al bivio e che alle 6 si sarebbe trovato al campo coi compagni non aveva nessuno con cui parlare ma quando anche ci fosse stato parlare sarebbe stato impossibile a causa della museruola di ghiaccio che gli serrava la bocca continuò quindi a masticare tabacco col risultato che la barba ambrata divenne sempre più lunga di quando in quando gli si riaffacciava il pensiero che faceva veramente freddo e che mai aveva provato un freddo simile camminando si strofinava naso e zigomi col dorso della mano guantata automaticamente cambiando mano di tanto in tanto ma con tutto lo strofinio non appena cessava gli zigomi si intorpidivano e l'istante successivo era la punta del naso a intorpidirsi sicuramente gli si sarebbero congelate le guance lo sapeva ed ebbe un moto di rimpianto per non essersi messo un coprinaso del tipo che portava bad in queste occasioni ma non importava molto dopo tutto le guance intirizzite fanno solo leggermente male non sono un inconveniente grave per quanto la sua mente fosse sgombra di pensieri aveva un acuto spirito di osservazione e non gli sfuggivano i mutamenti del ruscello le ansie le curve e badava sempre bene a dove metteva i piedi una volta giunto a una curva scartò bruscamente come un cavallo impaurito e arretrò di un bel pezzo dal punto in cui stava camminando lungo la pista sapeva che il ruscello era congelato fino in fondo non poteva esserci acqua in quell'inverno artico ma sapeva altresì che c'erano delle sorgenti che sgorgavano dalle pendici delle colline e scorrevano tra il manto di neve e lo strato di ghiaccio che ricopriva il fiume sapeva che anche le morse di gelo più acute congelano queste sorgenti e conosceva il pericolo che rappresentavano erano vere e proprie trappole nascondevano sotto la neve pozze di acqua che potevano essere profonde da poche dita a un metro talvolta erano ricoperte da una crosta di ghiaccio spessa qualche centimetro a sua volta ricoperta di neve talvolta strati di acqua si alternavano a croste di ghiaccio così che quando uno cominciava ad affondare continuava a sprofondare da un pezzo bagnandosi talora fino alla cintola per questo aveva fatto uno scarto repentino aveva sentito il terreno cedere sotto i piedi e udito lo scricchiolio di una crosta di ghiaccio nascosta dalla neve e bagnarsi i piedi a quella temperatura rappresentava un pericolo oltre che un fastidio come minimo significava ritardare perché sarebbe stato costretto a fermarsi per fare un fuoco e protetto da questo mettersi a piedi nudi fin tanto che si asciogassero calzerotti e mocassini si fermò per osservare il letto e le sponde del fiume e stabilì che il fiotto della sorgente veniva da destra rimase un po a riflettere strofinandosi naso e guance poi piegò a sinistra camminando con circospezione e saggiando il suolo ad ogni passo una volta scampato il pericolo masticò un nuovo morso di tabacco e riprese la sua andatura nel corso delle due ore successive si imbatte in varie altre trappole di questo tipo di solito la neve che celava le pozze aveva un aspetto affossato e granuloso che faceva presagire il pericolo una volta la scampò per poco un'altra fiutando il pericolo obbligò il cane a precederlo il cane era riluttante rimase dietro l'uomo finché questi lo costrinse a spingersi in avanti e poi attraversò frettolosamente la superficie liscia immacolata l'improvviso sprofondò questa cedette il cane fece uno scarto e si rifugiò sui terreni più sicuri si era bagnato le zampe anteriori e quasi istantaneamente l'acqua si trasformò in ghiaccio tentò prontamente di leccarselo via poi si scedette nella neve e cominciò a mordicchiarsi le incrostazioni che si erano formate tra le dita era un gesto istintivo lasciarle avrebbe significato piaghe sulle zampe non lo sapeva ubbidiva soltanto al misterioso suggerimento che gli veniva dai più remoti recessi del suo essere l'uomo però sapeva avendo esperienza in materia e si tolse il guanto dalla mano destra per aiutarlo a staccare i ghiaccioli non espose le dita per più di un minuto rimase stupito dalla rapidità con cui si intorpidirono faceva proprio freddo si rimise in fretta il guanto e si picchiò la mano selvaggiamente contro il petto alle 12 il giorno ebbe il suo momento di massima luminosità eppure il sole era ancora troppo a sud nella sua traiettoria invernale per illuminare l'orizzonte la rotondità della terra gli impediva di illuminare lo Henderson Creek dove l'uomo camminava a mezzogiorno sotto un cielo limpido senza proiettare ombra alle 12 e mezza in punto arrivò la biforcazione del fiume era soddisfatto della propria velocità se manteneva quel ritmo alle sei sarebbe senz'altro stato fra i compagni si sbottonò giacca e camicia e tirò fuori la colazione non ci impiegò più di pochi secondi eppure bastarono a intorpidirgli le dita di una mano invece di rimettersi subito il guanto batte forte le dita una dozzina di volte contro la gamba poi si sedette a mangiare su un tronco coperto di neve il dolore pungente che aveva seguito il battere le dita contro la gamba cessò così rapidamente che si spaventò non aveva neppure avuto il tempo di mettersi in bocca la galletta batte ancora ripetutamente le dita e le infilò nel guanto e si tolse l'altro nel tentativo di mettersi a mangiare provò ad addentare un boccone ma la museruola di ghiaccio glielo impedì aveva dimenticato di farsi un fuoco per scioglierla sorrise della propria stoltezza e mentre sorrideva sentì un rapido torpore afferrare le dita scoperte si accorse altresì che il dolore pungente che aveva provato ai piedi stendendosi stava già scomparendo si domandò se le dita fossero calde o intorpidite provò a muoverle nei mocassini e decise che erano intorpidite si rimise il guanto in fretta e balzò in piedi vagamente impaurito saltellò su e giù finché non risentia ai piedi l'acuto dolore faceva davvero freddo pensò l'uomo che veniva dal sulfur creek diceva la verità quando gli aveva raccontato a che punto poteva arrivare il freddo da quelle parti e pensare che gli aveva riso in faccia ciò mostrava che non bisogna essere troppo sicuri delle cose faceva proprio un freddo cane non c'era dubbio si mise a camminare su e giù pestando i piedi e sgranchendosi le braccia finché era assicurato non sentì ritornare il calore allora tirò fuori dei fiammiferi e si accinse a preparare un bel fuoco prese la legna da ardere nel sottobosco dove le piene della primavera precedente avevano ammucchiato delle riserve di ramoscelli stagionati da un modesto focarello iniziale lavorando con grandi precauzioni riuscì ad ottenere un fuoco cagliardo che gli sciolse il ghiaccio dal volto e al cui tepore potei mangiare le gallette per un momento il gelo che lo circondava fu sopraffatto anche il cane godeva di quel fuoco e vi si era steso a una giusta distanza abbastanza vicino da prendere calore senza scottarsi terminata la colazione l'uomo si riempì la pipa e si concesse una bella fumata poi si rinfilò i guanti si sistemò accuratamente i paraorecchi e con gran disappunto del cane che non riusciva a staccarsi dal fuoco si accinse ad imboccare la pista del ruscello diretta verso sinistra quest'uomo non sapeva cos'era il freddo proveniva da una stirpe che ignorava il freddo il freddo vero il freddo che si prova a 60 dal punto di congelamento ma il cane lo conosceva i suoi antenati se ne intendevano di freddo e gli avevano tramandato la loro esperienza e sapeva che non era bene andarsene in giro con un freddo simile era piuttosto il momento di accovacciarsi in un buco nella neve ed attendere che una coltre di nuvole si frapponesse come una tenda a sbarrare la via del freddo ma non esisteva una vera intimità tra il cane e l'uomo il primo non era che lo schiavo da fatica dell'altro non conosceva altre carezze che quelle della frusta l'uomo prese a masticare tabacco e si ricominciò a formare la barba ambrata mentre il vapore del respiro gli imbiancò rapidamente baffi ciglia e sopracciglia non sembrava che ci fossero molte sorgenti sul ramo di sinistra dello henderson e per mezz'ora non vide nessun segno premonitore e poi accadde in un punto dove non c'era assolutamente nulla di strano dove la neve soffice e compatta sembrava promettere un solido fondale l'uomo sprofondò non di molto si bagnò solo fino a mezza gamba prima di rimettere piede su una crosta sicura furente imprecò contro la sua mala sorte aveva sperato di essere al campo coi compagni per le sei e questo incidente lo avrebbe fatto ritardare di un'ora perché gli toccava accendere un fuoco per far asciugare calze e scarpe sapeva che questo era assolutamente indispensabile con una temperatura così bassa invece di proseguire sulla pista si inerpicò sull'argine del fiume in cima intorno ai tronchi dei piccoli abeti si era raccolto un vero deposito di legna secca ammucchiata vi dalle piene stecchi e ramoscelli soprattutto ma anche quantità più massicce di rami stagionati ed erbacce secche dell'anno prima cominciò a disporre sulla neve in guisa di basamento molti grossi rami che impedivano alla nascente fiamma di annegare nella neve disgelata ottenne la fiamma avvicinando un fiammifero alla sottile scorza di betulla che aveva in tasca bruciava anche meglio della carta la mise sul primo strato di rami e alimentò la fiamma nascente con manciate di erba secca e con ramoscelli più minuti lavorava lentamente con mille cautele perfettamente conscio del pericolo gradualmente mano a mano che la fiamma si rinvigoriva aumentava il calibro dei rami con cui l'alimentava accoccolato nella neve districava i rami dalla boscaglia e li dava direttamente in pasto alle fiamme sapeva che non poteva permettersi di sbagliare a 60 sotto zero uno che abbia i piedi bagnati non deve fallire il primo tentativo di accendere un fuoco se ai piedi asciutti e fallisce può fare un chilometro di corsa lungo la pista per ripristinare la circolazione ma la circolazione in un piede bagnato in via di congelamento non si ravviva più neanche correndo a 60 sotto zero per quanto veloce si possa correre il piede si indurisce via più nel gelo tutto questo l'uomo lo sapeva il vecchio di sulfur creek gliene aveva parlato l'autunno passato e adesso il consiglio gli riusciva prezioso già i piedi erano diventati completamente insensibili per farsi il fuoco era stato costretto a togliersi i guanti e le dita si erano immediatamente intorpidite finché aveva camminato a cinque chilometri all'ora il cuore aveva pompato sangue fino a tutte le estremità del suo corpo ma l'istante che si era fermato l'azione della pompa si era affievolita il gelo dello spazio mordeva l'estremità in difesa del pianeta ed egli che si trovava nell'estremità in difesa ne riceveva in pieno l'assalto il sangue del suo corpo si ritraeva di fronte ad esso il sangue era vivo come il cane e come il cane anelava a sfuggire e nascondersi di fronte allo spaventoso gelo finché aveva camminato al suo ritmo volente o nolente il sangue era stato spinto alla superficie ma ora rifluiva indietro sprofondando negli intimi recessi del suo corpo le estremità erano le prime a sentirne l'assenza i piedi bagnati furono i primi a congelarsi e le dita nude a intorpidirsi ma senza gelarsi naso e guance si erano cominciati a congelare ed egli sentiva tutta la pelle del corpo rabbrividire abbandonata dal tepore del sangue ma ormai era salvo dita in naso e guance sarebbero stati solo sfiorati dal gelo dal momento che il fuoco aveva preso ad ardere con l'ena lo alimentava con rametti non più grandi di un dito ancora un minuto e avrebbe potuto alimentarlo con rami grossi come il suo polso dopodiché poteva sfilarsi le calzature mentre si asciugavano tenere i piedi nudi vicino al fuoco strofinandoli naturalmente prima con la neve era riuscito ad accendere il fuoco era salvo ricordando il consiglio del vecchio di sulfur creek sorrise pretendeva che nessuno dovesse viaggiare da solo nel klondike oltre i 50 sotto zero e bene lui ci si trovava aveva avuto l'incidente era solo e ce l'aveva fatta quei vecchi o almeno certuni erano delle donnicciole pensò bastava non perdere la testa ecco tutto un uomo degno di questo nome poteva benissimo viaggiare da solo ma era impressionante la rapidità con cui gli si congelavano le guance e il naso e non aveva immaginato che le dita potessero perdere ogni vitalità in così poco tempo erano prive di vita riusciva astento a coordinare i movimenti necessari ad afferrare un ramocello sembravano remote dal suo corpo e da sé se toccava un ramo senza l'aiuto degli occhi non riusciva a capire se l'avesse preso o no tra lui e le estremità delle sue dita i fili di comando erano interrotti ma tutto questo importava poco ormai il fuoco era lì scoppiettante e crepitante e carico di vita in ogni sua fiamma danzante cominciò a slacciarsi i mocassini erano incrostati di ghiaccio gli spessi calzarotti tedeschi erano come guaine di ferro fino alle ginocchia e i lacci dei mocassini erano come i fili di acciaio inestricabilmente avviluppati come da una conflagrazione per un po' armeggiò con le dita intorpidite poi rendendosi conto della totale futilità del gesto estrasse il coltello ma prima che potesse tagliare i lacci accadde il fatto fu colpa sua o piuttosto la conseguenza di uno sbaglio non avrebbe dovuto fare il fuoco sotto la bete ma all'aperto lo aveva fatto perché così era stato più facile prendere i rametti dal sottobosco e gettarli direttamente nel fuoco ma l'albero sotto il quale aveva acceso il suo fuoco aveva i rami appesantiti da cumuli di neve da settimane non soffiava vento ed ogni ramo era carico al massimo ogni volta che aveva strappato un rametto aveva comunicato una leggera vibrazione all'albero una vibrazione impercettibile dal suo punto di vista ma sufficiente a provocare il disastro in cima all'albero un ramo scaricò il suo fardello di neve sui rami di sotto i quali fecero altrettanto il processo continuò diffondendosi e coinvolgendo tutto l'albero si formò come una varanga che precipitò di colpo sull'uomo e sul fuoco il fuoco si spense al suo posto ora si stendeva un manto disordinato di neve fresca l'uomo fu atterrito ebbe la sensazione di aver appena udito pronunciare la sua condanna a morte lì per lì si sedette fissando il punto in cui fino a un attimo prima c'era stato il fuoco poi si sentì pervaso da una grande calma forse il vecchio sul full creek aveva ragione se soltanto avesse avuto un compagno ora non si sarebbe trovato in pericolo il compagno avrebbe potuto accendere per lui un altro fuoco bene ora toccava a lui riaccendere un altro fuoco e questa volta non doveva commettere sbagli anche se gli andava bene avrebbe certamente perso alcune dita i piedi dovevano essere malamente congelati ormai e ci sarebbe voluto un bel po per preparare il secondo fuoco tali furono i suoi pensieri ma non era rimasto seduto a formularli mentre gli balenavano nel cervello si era dato da fare a preparare la nuova fiammata all'aperto stavolta dove nessun albero traditore potesse spegnerla si diede poi da fare a raccogliere erbe secche e rametti sottili non riusciva a riunire le dita per strapparli ma poteva prenderli a manciate era il meglio che potesse fare anche se ciò significava raccogliere persino rami fradici o erbe troppo fresche di nessun ausilio lavorava con metodo raccattando anche una certa quantità di rami più grossi da usarsi successivamente quando il fuoco avesse preso bene e nel frattempo il cane stava seduto a guardarlo con occhi ansiosi perché l'uomo gli appariva come il procacciatore di fuoco e il fuoco era lento a venire quando tutto fu pronto l'uomo si frugò in tasca per cercare un secondo pezzo di scorza di betulla sapeva di averne e pur senza sentirla con le dita la udiva frusciare mentre annaspava nella tasca ma per quanto provasse non riusciva ad afferrarla intanto si accorgeva che ad ogni istante che passava i piedi gli si andavano congelando questo pensiero tendeva a precipitarlo nel panico ma si sforzò di cacciarlo e di mantenersi calmo si infilò i guanti coi denti stesse le braccia avanti e indietro percuotendosi le mani sui fianchi con tutta la sua forza prima lo fece seduto poi in piedi e nel frattempo il cane se ne stava accovacciato nella neve la coda pelosa da lupo arricciolata a scaldargli le zampe anteriori e le aguzze orecchie da lupo tutte tese mentre osservava l'uomo e l'uomo mentre agiva e batteva gambe e braccia provò un grande impito di invidia per la creatura che se ne stava calda e sicura nella sua copertura naturale dopo un po' percepì un primo fievole ritorno di sensibilità nelle dita il fioco formicolio andò aumentando fino a trasformarsi in un dolore pungente tormentoso che egli tuttavia accolse con sollievo si tolse allora il guanto destro ed estrasse la scorza di betulla le dita nude gli si andavano intorpidando velocemente successivamente tirò fuori i fiammiferi ma il freddo tremendo aveva reso le sue dita come morte nel tentativo di separare un fiammifero dagli altri tutto il mazzo gli cadde nella neve tentò di raccoglierlo ma non vi riuscì le dita morte non erano in grado né di toccare né di afferrare procedette con grande attenzione scacciò dalla mente il pensiero del congelamento ai piedi del naso e delle guance per dedicarsi con tutta l'anima ai fiammiferi osservò attentamente usando la vista al posto del tatto e quando vide che le dita erano piazzate ai due lati del mazzo le chiuse o per meglio dire le volle chiudere perché le comunicazioni erano interrotte e le dita non ubbidirono si infilò il guanto nella mano destra e la batte con furia contro il ginocchio poi con le due mani guantate riuscì a portarsi in grembo il mazzo di fiammiferi nonché parecchia neve ma senza grandi risultati dopo vari armezzi riuscì a portarsi i fiammiferi tra i pollici delle due mani guantate e da qui alla bocca il ghiaccio scricchiolò quando con un violento sforzo aprì la bocca ritrasse la macella inferiore e il labbro superiore e sfregò i denti sul mazzo per separarne un fiammifero riuscì a prenderne uno che si lasciò cadere in grembo ma non serviva niente non poteva raccattarlo poi ebbe un'idea lo afferrò coi denti e lo strofinò su una gamba venti volte dovette strofinarlo prima che si accendesse quando fu acceso sempre tenendolo fra i denti lo avvicinò alla scorza di betulla ma l'esalazione di zolfo entrandogli nelle narici e nei polmoni lo fecero tossire spasmodicamente il fiammifero cadde nella neve e si spense il vecchio di sulfur creek aveva ragione pensò nel momento di controllata disperazione che seguì oltre 45 sotto zero bisogna viaggiare con un compagno batte le mani senza per altro provare nessuna sensazione all'improvviso misi a nudo le mani togliendosi i guanti coi denti afferrò tutto il mazzo tra le palme delle mani i muscoli delle braccia non essendo congelati gli consentirono di stringere forte le palme contro i fiammiferi poi sfregò tutto il mazzo contro la gamba 70 solfanelli all'improvviso presero fuoco non c'era vento per spegnerli reclinò la testa da un lato per sfuggire alle loro esalazioni soffocanti e avvicinò il mazzo ardente alla scorza di betulla mentre così lo teneva sentì qualcosa alle mani la carne stava bruciando ne sentiva l'odore la sensazione divenne un dolore lancinante pure lo sopportò tenendo goffamente la fiamma presso la scorza che stentava a prendere fuoco perché le sue stesse mani bruciando assorbivano gran parte della fiamma alla fine quando non ne pote più dal dolore ritirò le mani i fiammiferi fiammezzanti caddero sfrigolando nella neve ma la scorza di betulla era accesa cominciò a buttare sulla fiamma erbe secche e minuscoli ramoscelli non poteva acchinarsi a scegliere perché doveva prendere il combustibile tra le palme delle mani restavano attaccati ai rametti pezzi di legno fradicio e muschio fresco che cercava di eliminare al meglio coi denti badava al focarello con cura amorosa anche se goffamente era la vita per lui e non bisognava lasciarlo per ira sentendo che il sangue si ritirava sempre più dalla superficie del suo corpo presero a brividire e i gesti divennero sempre più inaccurati un grosso pezzo di muschio verde cadde sul focarello cercò di rimuoverlo con le dita ma tremava talmente che finì con lo scompigliare il nucleo del fuoco sparpagliando tutto intorno erbe e ramoscelli accesi cercò di rimetterli insieme ma nonostante l'intensissimo sforzo il suo tremore meglio e i ramoscelli rimasero sparsi senza speranza ciascuno diede una sbuffata fumosa e si spense il procacciatore di fuoco aveva fallito mentre si guardava intorno smarrito i suoi occhi caddero sul cane accovacciato sulle rovine del focolare nella neve era irrequieto alzava leggermente una zampa dopo l'altra e spostava il peso dell'una all'altra la vista del cane gli fece venire un'idea folle si ricordò la storia di un uomo che durante una bufera aveva ucciso un vitello e si era salvato rintanandosi nella sua tiepida carcassa avrebbe ammazzato il cane e affondato le sue mani nel corpo ancora caldo fino a quando non avessero riacquistato la sensibilità poi si sarebbe acceso un altro fuoco parlò al cane chiamandolo per farlo avvicinare ma la sua voce aveva un suono strano come di paura che spaventò l'animale che non lo aveva mai sentito parlargli prima a quel modo era qualcosa di diverso e la natura sospettosa dell'animale sentì il pericolo non sapeva quale ma oscuramente provò un senso di timore verso l'uomo abbassò le orecchie al suono della voce dell'uomo e i suoi movimenti irrequieti e l'alzarsi e l'abbassarsi delle zampe anteriori divenne più pronunciato ma non si avvicinò l'uomo si accostò carponi al cane ma questa strana posizione ridestò i sospetti dell'animale che si schernì scansandosi l'uomo si sedette un po' sulla neve cercando di dominarsi poi si infilò i guanti coi denti e si alzò in piedi guardò per terra per accertarsi di essere davvero in posizione verticale perché la mancanza di sensibilità ai piedi gli aveva tolto ogni contatto col suolo vedendolo in piedi i sospetti del cane si affievolirono e quando l'uomo gli parlò in tono perentorio col suono della frusta nella voce gli si avvicinò con la soggezione di sempre quando fuo tiro l'uomo perse ogni controllo di sé le sue braccia si tesero verso il cane ed egli rimase genuinamente stupito nello scoprire che le mani non riuscivano ad afferrare la presa che le dita non si piegavano ne sentivano aveva dimenticato per un attimo che erano congelate e si andavano via più congelando col passare del tempo tutto avvenne in un baleno e prima che l'animale potesse sfuggire lo abbrancò fra le brazza si sedette nella neve restando afferrato ai cane che dirignava i denti guaiva e si dibatteva ma era tutto quello che poteva fare tenersi abbrancato all'animale e starsene seduto capì di non essere in grado di ucciderlo come avrebbe potuto con le sue mani inette non potevano brandire il coltello né strangolarlo non lasciò andare e quello balzò selvaggiamente via con la coda tra le gambe ringhiando si fermò a una quindicina di metri e lo osservò con curiosità le orecchie ritte l'uomo si mise a cercare con gli occhi le proprie mani e le trovò penzoloni all'estremità delle braccia mi sembrò strano che bisognasse usare gli occhi per capire dove fossero le mani cominciò a muovere le braccia avanti e indietro e a battersi le mani inguantate sui fianchi continuò per cinque minuti con violenza e il cuore pompò abbastanza sangue alla superficie per fargli cessare il tremito ma nessuna sensazione si ridestò nelle mani aveva l'impressione che gli penzolassero come pesi morti all'estremità delle braccia ma quando cercò di identificare l'origine di questa sensazione non riuscì a trovarla una certa paura di morire teta e oppressiva lo pervase divenne acuta quando si rese conto che non si trattava più di perdere le dita delle mani o dei piedi o addirittura le mani ai piedi ma che era ormai per lui questione di vita o di morte e la sorte aveva tutta l'aria di esserli avversa questo pensiero lo gettò nel panico si fosse correndo verso il letto del ruscello lungo la vecchia pista semicancellata il cane gli si accodò correva alla cieca senza una meta posseduto da un terrore quale non aveva mai provato in vita sua lentamente mentre si arrabattava per aprirsi un varco in mezzo alla neve riprese a vedere il mondo circostante gli argini del fiume gli ammassi di vecchi tronchi gli alberi senza foglie e il cielo correre lo fece sentir meglio non tremava più forse se continuava a correre i piedi si sarebbero scongelati in ogni modo se correva abbastanza a lungo avrebbe raggiunto il campo e i compagni senz'altro avrebbe perduto alcune dita delle mani o dei piedi e qualche parte del volto ma i suoi compagni avrebbero avuto cura di lui e salvato il resto e nello stesso tempo un'altra voce interiore gli diceva che non avrebbe mai raggiunto l'accampamento ai compagni che era troppo lontano che il gelo si era ormai impadronito di lui e che presto si sarebbe irrigidito e infine sarebbe morto cercava di scacciare questo pensiero e di non prenderlo in considerazione a volte esso faceva pressione per essere udito ma egli lo ricacciava via cercando di pensare ad altro gli sembrava strano di riuscire a correre avendo i piedi così congelati che non li sentiva quando poggiavano per terra e sembrava di scivolare sulla superficie di non avere contatto con il terreno aveva visto una volta in qualche posto un mercurio alato e si se mercurio provasse quello che provava lui scivolando sulla terra la teoria di correre fino all'accampamento e ai compagni aveva un solo punto debole gli sarebbero mancate le forze per farlo già altre volte aveva inzampato alla fine vacillò annaspò e cadde quando cercò di rialzarsi non si riuscì doveva riposarsi un po pensò e poi mettersi semplicemente a camminare mentre sedeva a prender fiato notò che si sentiva proprio bene non tremava più e aveva perfino l'impressione di avere un caldo ardore nel petto eppure se si toccava il naso le guance non sentiva nulla correre non era servito a sgelargli come non aveva sgelato le mani ai piedi poi gli venne il sospetto che le parti congelate del suo corpo stessero estendendosi tentò di scacciare questo pensiero di pensare ad altro sentiva che gli provocava un senso di panico e nel panico era terrorizzato ma quello persisteva e finì col produrre in lui la visione del suo corpo totalmente congelato era troppo riprese a correre come un pazzo lungo la pista rallentò a un certo punto il passo ma il pensiero del propagarsi del congelamento lo fece di nuovo correre per tutto il tempo il cane gli stava lì calcagna quando cadde la seconda volta attorcigliò la coda sulle zampe anteriori e gli si sedette di fronte curiosamente bramoso intento il senso di calore e di sicurezza dell'animale lo irritò e urlando lo colpì di imprecazioni finché non lo vide abbassare le orecchie con aria remissiva questa volta il tremito lo assalì più presto stava perdendo la sua battaglia col gelo che cominciava ormai a invadere il suo corpo da ogni parte questo pensiero lo spinse ancora un po avanti ma dopo aver corso per un centinaio di metri barcollò e cadde bocconi lungo disteso fu l'ultimo suo momento di panico quando ebbe ripreso fiato il controllo di sé si mise a sedere e si propose di affrontare la morte con dignità l'idea tuttavia non gli si presentò proprio in questi termini ebbe piuttosto la sensazione di avere agito come uno sciocco mettendosi a correre all'impazzata come una gallina decapitata questa fu la similitudine che gli si presentò alla mente se era destinato a morire se era destinato a morire congelato tanto valeva prendersela decorosamente raggiunta questa pace dell'animo ebbe un primo senso di assopimento buona idea pensò entrare nella morte dormendo era come prendere un anestetico c'erano modi molto peggiori di morire si raffigurò i suoi compagni mentre trovavano il suo corpo il giorno dopo improvvisamente gli parve di essere con loro di percorrere con loro quella pista alla ricerca di se stesso e sempre con loro dietro una curva della pista si trovò disteso nella neve non apparteneva già più a sé poiché anche allora era staccato da sé e in piedi coi compagni guardava se stesso nella neve faceva proprio freddo pensò al ritorno negli stati uniti avrebbe detto alla gente cosa era un vero freddo passando da questa un'altra visione gli riapparve il vecchio sulfur creek lo vedeva nitidamente mentre al calduccio si fumava la pipa avevi ragione mormorò l'uomo al vecchio di sulfur creek quindi l'uomo si assopì in quello che gli apparve come il sonno più bello che avesse mai dormito il cane era covacciato di fronte a lui e aspettava il breve giorno volgeva il termine con un lento lungo crepuscolo non si vedeva alcun preparativo di fuoco e inoltre il cane non aveva mai visto in tutta la sua esistenza un uomo starsene seduto così nella neve senza accendere il fuoco mentre il crepuscolo avanzava il cane vinto dal desiderio di fuoco cominciò ad agitarsi a gemere sommessamente poi afflosciò le orecchie aspettando il castigo ma l'uomo rimase muto dopo un po il cane si mise a guaire più forte e dopo un altro po strisciò vicino all'uomo e annusò l'odore della morte arricciò il pelo e si ritrasse sostò ancora qualche minuto ululando sotto le stelle che tremolavano e danzavano e brillavano nitide nel cielo gelido poi si volse e si diresse trutterellando verso l'accampamento che ben conosceva dove c'erano altri procacciatori di cibo e di fuoco grazie a tutti